Televassina dal 18 novembre passerà le trasmissioni in digitale terrestre sul canale UHF 42. Il passaggio al digitale nella provincia di Como e Lecco avrà un'anticipazione il 2 di novembre con i territori dell'Alto Lago di Como. L'intera provincia invece transiterà al digitale terrestre il giorno 18 novembre alle ore 10 del mattino. Nel frattempo sono sempre maggiori le segnalazioni di antennisti che allarmano utenti avvisando che da novembre non sarà più possibile vedere la tv se non si dispone di una parabola. Ciò, oltre ad essere falso, è privo di ogni fondamento. Unico requisito è un decoder da collegare al vecchio televisore o a una tv di nuova generazione con decoder integrato. A partire dal giorno dello switch off, ossia dallo spegnimento del vecchio segnale analogico in quello digitale, sarà necessario collegare il decoder ed effettuare la ricerca dei canali. Per conoscere con esattezza la data dello switch off del vostro paese,